Palla canestro in Serie 2, ottava giornata, girone rosso, sconfitta interna per la Lux Chieti contro la capolista Scafati. Il match al Paratrical, state vedendo alcune immagini, è finito 64 a 82 per gli ospiti, primo tempo 31-39. Risultato preventivabile sotto certi aspetti alla vigilia, visto l'alta difficoltà del match. In casa Lux, tre giocatori in doppia cifra, buono l'apporto del neoacquisto Lips, autore di 17 punti. Amici, ne ha realizzati 13, Meluzzi 12.